la conferenza stampa palazzo lombardia sede della regione l'ha convocata l'assessore giulio gallera sul delicato tema delle vaccinazioni in particolare l'assessore si è soffermato sul percorso di recupero dell'adempimento da parte delle famiglie non ancora in regola questione che ha sollevato le dure critiche del ministro all'istruzione fedeli la lombardia è fuori legge osservato il ministro ecco la risposta di gallera regione lombardia non è fuori dalla legge regione lombardia applica la legge in regione lombardia nessun bambino potrà frequentare gli asili nido le scuole materne se non è vaccinato abbiamo solo dato una interpretazione che consente anche a coloro che hanno dubbi o che hanno una situazione clinica del proprio figlio che è preoccupante e che non presenta la documentazione di attivare quel percorso formale di recupero dell'adempimento che è previsto dalla legge che in via ordinaria viene fatto prima dell'inizio dell'anno scolastico e che inspiegabilmente era assaltato nella fase di applicazione transitoria non è corretto che chi fa una richiesta chi non è vaccinato e fa la richiesta di vaccinarsi e magari dopo qualche mese non va agli non decide di non vaccinare il proprio figlio frequenta per alcuni mesi la scuola e chi invece per avendo gli stessi dubbi non presenta la domanda viene escluso immediatamente quindi noi abbiamo fatto un'operazione di grande giustizia nel pieno rispetto della legge in lombardia nessun bambino non vaccinato potrà frequentare per l'intero anno scolastico